Dal mondo economico, da quello della pubblica amministrazione, dalle aziende sia pubbliche che private, si alza una richiesta costante di operatori che abbiano maggiori professionalità e competenze nell'ambito giuridico. Ad Arezzo triplica così l'offerta formativa nella sede a retina dei servizi giuridici. Il nostro corso di laurea triennale in servizi giuridici già da alcuni anni è presente nella città di Arezzo con due curriculum e adesso se ne è aggiunto un altro in consulente del lavoro che è funzionale diciamo alla preparazione per lo svolgimento della professione del consulente del lavoro e poi abbiamo anche allo studio in fase di progettazione avanzata un corso di laurea magistrale che dovrebbe costituire il naturale proseguimento di questo ciclo triennale di studi. I corsi quando prenderanno? Il prossimo anno accademico speriamo, se le procedure ministeriali ce lo consentiranno, i focus sono il lavoro e la sicurezza. Il corso di laurea era arrivato ad Arezzo cinque anni fa grazie anche ad un accordo con il comune di Arezzo, poi allargato ad Anci Toscana con l'intento di ampliare le competenze giuridiche dei dipendenti delle amministrazioni comunali. Una disponibilità che l'amministrazione comunale ha dato ormai da più di tre anni all'università di Siena e in particolare al dipartimento di giurisprudenza per portare ad Arezzo una parte dell'offerta formativa che è di interesse di molti soggetti. Devo anche ricordare che la prima circolazione stracorporea del dipartimento di giurisprudenza è stata sponsorizzata dal Lanci regionale che ha proposto un tema che è quello della legalità e legato un po' alla legalità nell'amministrazione. E quindi molti sono stati i nostri dipendenti che grazie a quel corso di laurea ormai si sono già laureati, quindi questo è un motivo di vanto ed orgoglio e che rinsalda l'alleanza con l'Università di Siena.